Nel Salone Regolini Galassi del Museo Etrusco, inaugurato il 2 febbraio 1837, nel sesto anniversario dell'elezione a Papa di Gregorio XVI, Federico Barrocci e Federico Zuccari, in sedici riquadri affrescati alle pareti, narrano episodi della vita di Mosè e di Aronne. Questi, fratello di Mosè e sacerdote, fu incaricato di parlare al Faraone per convincerlo a rilasciare gli ebrei dall'Egitto. Fu, in qualche modo, l'avvocato di Mosè, anche presso gli israeliti diffidenti, verso ogni novità, poiché attraversare il deserto per un popolo, per quanto eletto, restava un'impresa pericolosa. L'alleanza tra i due personaggi subì lacerazioni. Nell'adorazione del vitello d'oro, uno scivolone di Aronne, e nel maldestro tentativo dello stesso di scalzare dal comando Mosè, uomo di poche parole e buone azioni, dovette rivedersi e chiariti i rapporti tra i due, procediamo con il dolente prologo alla Pasqua di liberazione. Dall'Esodo è aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E Mosè si coprì la faccia, perché non ardiva polgere lo sguardo a Dio, che a lui si rivela nel roveto ardente, senza consumarsi. Un vento caldo l'alimenta, solo Mosè sente la voce. Il cane lo osserva stupito, forse per la posizione insolita. Impergnato sul possente ginocchio destro. Il busto ruota, l'altra gamba si distende disarticolata. Oltre il piede, due ciabatte da camera. Strano. Stava appascendo il gregge, non riposando in camera. Era un esule, sfuggito al potere del faraone, in un deserto fisico e spirituale. Ora sa chi è e qual è la sua missione. Inginocchiato, credibilmente, giovane ed età, da robeto un angelo gli appare. Mosè non osa guardare ancora una volta nel fuoco che non brucia. La serp è sapiente, sergio in forma di caduceo. La salute del cuore e della mente, la sapienza di chi conosce senza intendere. In verità, l'artista anticipa il miracolo della verga trasformata in serp. La terza immagine si articola su più piani. Una città murata, forse delle fiambre. E per Mosè, pastore goffamente vestito, deve essere una rivelazione verso cui rivolge il volto. Sempre dall'Esodo. Or questo farai, disse Dio, affinché essi credano che ti è apparso il Signore, il Dio dei loro padri. Mosè prese una verga che si trasforma in serpente. Non essendo di facile parola, Dio lo dota di poteri miracolosi che persuaderanno gli spiriti tiepidi, replicherà con un covo di serpi. Aronne ai piedi del trono, stupendo il re ed i suoi consiglieri, in un'aula romana li farà alati con lo sgomento del farone. E il Signore disse ad Aronne, va incontra Mosè nel deserto. E Aronne andò, lo baciò e riferì le parole del Signore. Aronne ha il manto giallo, lo vediamo in alto a sinistra, a ricevere l'imperativo di Dio. Nell'abbraccio le teste si confondono ed i corni d'oro, attributo di Mosè, sembrano uscire dal cranio di Aronne, che davanti al farone, in un ambiente rinascimentale, perora la causa degli ebrei, che vediamo in tenti, in gravosi lavori. La risposta del farone è una lezione di economia sociale. E' già troppo numeroso nel paese questo popolo e voi vedete quanto è cresciuto e quanto si moltiplicherà se date loro qualche sollievo dai lavori. L'uomo, dalla parola rara, agisce secondo le istruzioni del Signore, ordirando ad Aronne di gettare la sua berga subito mutata in serpenti. Mosè mantiene il manto rosso, segno d'autorità. Aronne ne indossa uno bianco. Tuttavia, il cuore del farone si indurì. Le mani mostrano il suo distacco. E con questo, sembra replicare, chiama i suoi maghi che gettano i loro bastoni che, per qualche magia egizia, si trasformano in serpenti. Ma la verga, tornata tale, li divorò. Non bastò ed iniziarono le piaghe. L'acqua del Nilo si macchia di sangue. Mentre Mosè ed Aronne mantengono un aspetto costante, i faroni sembrano cambiare. Gli eventi narrati nel testo biblico coprono infatti secoli e secoli. Come annunciato da Mosè al farone, su indicazione di Dio, il flagello delle rane colpirà il paese entrando nelle case, persino nella camera del re. Le vediamo sul tavolo da pranzo e non sono una portata, bensì vive e sgambettanti. L'unico che sembra ignorarle è il serbo. Le piaghe colpiscono i potenti. Un cagnetto disputa inutilmente re, regina, soldati, tutti disgustati dalle rane, chissà perché ripugnanti. Non basteranno neppure le zanzare chiamate dal battere del bastone. Il farone alza gli occhi al cielo, i saggi smanettano ed un soldato si gratta. Le punture sono fuori, due guardie vengono atterrate. ci si gratta persino sotto l'elmo, corpi contorti, sbraccati. Un campanile romanico al colmo di un colle assiste indifferente come Mosè in manto aureo. Si legge sui campi, cavalli, asini, cammelli, buoi e pecore cadrà tremenda pestilenza. Mosè è afflitto. Non loro è la colpa. Tuttavia anche gli uomini soffriranno. Si legge morirono tutti gli animali degli egiziani, mentre quelli dei figli di Israele non ne perì neppure uno. Ma il cuore del farone si indurì. Mosè ha lanciato in aria la cenere che ricadendo provocherà ulcere e pustole su uomini e i pochi animali sopravvissuti. Lo zuccheri rappresenta Mosè mentre annuncia la sesta piaga. Stendi la tua mano verso il cielo che cadrà la grandine su tutta la terra d'Egitto. Chi temette la parola del Signore si rifugiò nelle case dopo aver riparato gli armenti. Fulmini, pioggia, grandine, grossa come pietre, un flagello che fece infuriare il re. Umanamente comprendiamo. Forse avrà pensato cosa ci può capitare di peggio ed arrivano le locuste, divoratrici di erba, germogli, piante. In estremo oriente sarebbero finite fritte, qui provocano disgusto, carestia, fame. Arrivano in nuvole nere, si abbattono con la violenza ad una bufera e nulla risparmiano. Il farone, indifferente alle sofferenze del suo popolo, osa sfidare Dio. Stendi la tua mano verso il cielo e cadranno sopra la terra d'Egitto tenebre così dense da potersi palpare. Non è una semplice eclissi. Era buio pesto, nessuno osava muoversi. Immobilità, preannuncio della morte che verrà con la decima da pagare al Signore degli ebrei. Ed i primogeniti saranno il capro e spietodio di una sfida sciagurata tra storia umana e disegno divino. Il Signore incredibilmente si stancò, disse a Mosè e al suo popolo accampato davanti al mare. Perché gridi? Alza la tua verga! E le acque si divisero. Gli ebrei attraversarono il Mar Rosso e si richiusero al sopraggiungere dei cocchi e cavalieri egizi travolgendoli. Dove avvenne il miracoloso passaggio che sarà ricordato come Pasqua di liberazione? Probabilmente l'attraversamento della punta a nord del Mar Rosso una zona paludosa. Il vento forse espirò per l'intera notte così è scritto può aver prosciugato un tratto di quel mare anzi palude favorendo il passaggio il bello della Bibbia è che si può leggere e narrare quale straordinaria impresa epica di un popolo guidato da una volontà che lo trascende e dopo millenni ancora ci affascina. di un Grazie a tutti.